Ciao da Fiorello, come state ragazzi? Tutto bene? E allora, ho un'idea per tutti noi, ho un'idea, visto il periodo, ma perché non siamo un po' a casa? Un uso costruttivo della rete per lanciare sui social network un appello. Cantanti, conduttori, personaggi noti, uniti dall'hashtag e dall'omonima raccomandazione Io sto a casa. L'appello che vi faccio è stiamo a casa, state a casa. È l'unico modo che abbiamo per evitare che il coronavirus si possa diffondere ancora di più e lo dobbiamo fare subito. Ciao ragazzi, noi siamo in turno negli Stati Uniti, finiremo tra 4-5 giorni e torneremo in Italia. Forse da qui non ci rendiamo conto di quanto possa essere grave la situazione. Però sicuramente adesso che torniamo saremo a casa per il bene nostro, ma soprattutto per i beni di tutti. Ci sono tantissime cose belle da fare a casa. Io ad esempio quest'oggi ho cucinato una torta di mele con mael, poi abbiamo fatto la pizza, poi abbiamo guardato un bel film di quelli che piacciono noi donne, insomma quelli da piangere un po' in televisione. Si muove l'iperattivo. Allora io dico, vogliamo ripopolare, vogliamo che questo mondo rimanga in mano ai pigri? A me va bene, però caro iperattivo, se tu ti calmi un attimo e stai a casina, magari ci sei anche tu al prossimo giro, capito? E non manca un sorriso. Si sta tanto bene sul divano, vedete, guarda come sono sereno io. C'è del casismo intorno a me. Fai come me, rimani a casa. Grazie. Grazie.